E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui signori, finalmente, nell'episodio finale di Lost Alone, episodio 1 Little Sister. E ci tengo sempre a ricordarvi, videogioco interamente realizzato da Daniele da Sammatter. E anzi, prima di andare in gioco, come vedete, Daniele ha realizzato l'episodio 2 e l'episodio 3. Quindi altri due giochi. La mia domanda adesso è ovvia scontata. Li vorreste oppure ci fermiamo qui? Davvero lasciatemi un commento, un pollice in su soprattutto al video e in base al vostro feedback vedremo se portare anche l'episodio 2 e l'episodio 3. Ma prima di andare in gioco volevo leggere una cosina con voi. Se cerchiamo Lost Alone su Steam e leggiamo la trama, scopriamo cose non da poco. Cresciuto con la nonna paterna, George esce dalla spirale della dipendenza da alcol conoscendo Anna, la sua fidanzata. Ma i suoi traumi infantili torneranno presto a tormentarlo spingendolo nel baratro della disperazione. Entriamo in gioco, carichiamo la partita e perché ho letto ciò? Perché oggi ragazzi voglio parlarvi, voglio analizzare con voi quella che è la lore del gioco. Ovviamente per tutti coloro che invece si vorranno godere semplicemente il gameplay vi avrò messo in editing, il minutaggio, c'è schippa, vai là e ti taglio un video. Invece per tutti gli altri statemi ad ascoltare. Eccoci qua, all'interno del gioco. A sti ansiolitici li avrò presi 298 volte. Se vi ricordate quello che ci manca è posare l'ultimo libro perché dietro questa libreria, adesso non so se c'è un'altra stanza, un'altra cosa, avete rotto i coglioni voi con queste porte. Dobbiamo finire il gioco, ok? Quello di oggi sarà l'episodio probabilmente finale. Il libro è qua, ma prima di ciò parliamo. Il gioco inizia all'interno di questa stanza dove noi, se vi ricordate, vi eravamo chiusi all'interno. Cioè noi praticamente eravamo chiusi all'interno della stanza di Laura e la chiave si trovava esattamente qua, ok? Tante cose all'interno di questo gioco mi hanno fatto pensare e arrivare a questa idea. Noi non stiamo giocando all'interno di un mondo reale. In che senso? Tante cose non mi tornano. Ad esempio questa lettera. Questa è la prima lettera del gioco, la prima lettera che ci scrive Anna, ovvero la fidanzata di George. Questa mattina sono dovuto uscire molto presto per quel colloquio di lavoro. Quindi lei questa lettera l'avrà scritta, immaginiamo, di valle 5-6 del mattino, perché dormivamo così bene che le sarebbe dispiaciuto svegliarci. E fin qui il tutto ha senso. Ma le domande sono, uno, perché la lettera noi la leggiamo solo alle 19? Perché vi ricordo che il gioco inizia alle 19. Perché Anna scrive tutte queste lettere e le lascia in giro per casa? Perché per casa non c'è nessuno? Cioè effettivamente non incontriamo mai nessuno di reale se non i jumpscare. L'unica risposta sensata che mi sono potuto dare è che molto probabilmente stiamo vivendo il tutto all'interno della testa di George. Quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo giocato, o è un suo modo di aver, come dire, travisato gli eventi, o comunque sono cose che sono già successe, però nel suo cervello sono caotiche, no? Ovviamente lo stavone dice, sai che quasi quasi crasho. Rieccoci qui in gioco. Allora, ripigliamo, stiamo soliti, ci ho preso 97 volte. Adesso non mi ricordo esattamente il punto in cui eravamo, però più volte anche il gioco stesso ci ha fatto capire, e soprattutto interagendo col pendolo, che il tempo non scorre in maniera sensata, no? In tutto ciò sono le 21, il tempo scorre in modo molto strano in questa casa. Beh, sì, direi di sì. Quindi praticamente è tutto questo che mi ha fatto pensare a questa cosa. Noi in questo momento non siamo in un posto realmente fisico, ma siamo all'interno della testa di George. Ovviamente sì, all'interno della casa di Anna, Laura e bla bla bla, dove è avvenuto tutta questa cosa. Allora, secondo me, noi ci troviamo appunto all'interno della testa di George, esattamente o comunque nel momento dopo che George viene a conoscenza dei vari traumi di Anna. Da lì appunto tutti i vari jumpscare, l'unico alla quale non riesco a dare senso è praticamente quello dello scorso episodio, quello che avviene intorno a 15 minuti di video. Magari ve lo rimetterò in editaggio. Questo qua. Vi dico la verità, credo sia semplicemente una mancanza da parte di Daniele, nel senso che magari era un jumpscare vecchio, visto che questo gioco, per chi non lo sapesse, da come mi ha detto Daniele, ha almeno 10 versioni. Se vi andate a vedere i gameplay di quei due sul server, è non solo il gioco dal 2021 che è uscito, vi ricordo. Ad oggi c'è avuto parecchie versioni, parecchi nuovi jumpscare, parecchie nuove cose, quindi ci sta anche quello, magari se lo si è dimenticato, l'abbia lasciato là. Perché è l'unico jumpscare che personalmente cozza davvero col gioco. E perché vi dico ciò? Perché tutti gli altri, all'interno della testa di George, hanno senso. Perché cosa vede George? Praticamente tutti i suoi jumpscare riguardano o la sua fidanzata morta, o Laura morta, o la madre morta, o il padre morto. Quindi i traumi legati alla vita di Anna, ma all'interno della testa, comunque malata, di George, per via dell'alcol. E questo, secondo me, è il motivo del perché di tante cose. Del perché del tumore davanti la porta, della cosa dell'elefante all'interno della stanza, quella per me è stata la parte più bella, e più che altro spero tanto sia così, perché se non è così, è quello che stiamo vivendo, è effettivamente in tempo reale la storia, cosa che non credo. Tante cose non avrebbero senso. Per carità, capisco che può risultare banale l'idea è tutto in un sogno, però è coerente, ok? A me quello che mi interessa è vivere una storia coerente. Appunto, come vi dicevo prima, che senso avrebbe per Anna? Hai un colloquio, devi uscire presto, scrivi finché una lettera, va bene, ma tutte queste lettere, addirittura, ci lascia la siringa di Laura. Se ricordate, la siringa della medicina di Laura, ragazzi, la troviamo qua dentro, e per poter accedere a questo scomparto, Picciotti, dobbiamo piazzare tutti i quadri. Ma voi vi immaginate, una ragazza che prima di uscire di casa, alle 5 del mattino, si sveglia, prende tutti i quadri, e li va disseminando in giro per casa? Non ha senso. Secondo me ha più senso che George appunto sia in questo limbo, in questo limbo mentale dove lui è convinto di dover risolvere. Lui ha vissuto appunto già questi eventi di Laura, la medicina, probabilmente Laura sarà anche morta, e lui magari, che ne so, per i suoi sensi di colpa, per tutte queste cose, sta rivivendo. Vede nella sua mente appunto Anna morta, Laura morta, perché o ha fatto qualcosa lui, o perché non lo so, o perché non lo so. Però, adesso, bisogna realmente scoprire il tutto. Ci tenevo a dirvele queste cose perché Daniele ci ha messo serietà, nel senso che ci ha messo amore in quello che ha fatto, ok? Cioè, quando una persona aggiunge tutte queste cose, tutti questi dettagli, è perché vuole dare comunque una certa coerenza al gioco, e io il gioco lo voglio prendere seriamente, ok? Non voglio dire, ah vabbè, l'ha fatto uno, e lo gioco così senza guardare, voglio prenderlo con serietà, e quindi voglio analizzare pure queste cose, perché secondo me è figo, voglio capire il senso. Detto ciò, credo di avervi detto tutto, anche perché, giustamente non conoscendo il finale, non sapendo cosa succede dopo, dai, io direi di andare avanti. Oh signori, abbiamo appena sbloccato, e buonanotte, ovvero l'achievement, di trovare tutti i libri. Mettiamo la batteria nuova, e signori, finalmente scopriamo cosa c'è dietro la libreria. Oh, erano capelli, non erano tentacoli, e le gemme sono gli occhi. Le gemme sono gli occhi. U la la. Stanza segreta. Non ho la chiave. No, Dani. No, Dani, non me lo dire, Dani. E dov'è la chiave? No, Dani, non me lo dire. Dani! E ma dov'è sta chiave? Allora, so dov'è la chiave. La chiave è qui sotto, però non so come aprirlo. Cioè, la chiave è qua dentro. Porca booo. Porca vacca. E adesso? L'unica cosa che mi viene da dire è il punto interrogativo che c'è qua. Esatto. Era l'unica cosa che mi veniva da dire. ospedale. L'esterno. L'esterno. Sì, raga, non... Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, raga. 4, 6. 4, 6. Nel senso che poteva anche essere un 6? Assolutamente sì, raga, non... Siamo... Nella testa. Libri di cervello, sì. Energy drink. Studio. La porta è chiusa. Radiografie. Radiografie. Oh? Radiografia 4. Degenza. Che vuol dire degenza? Madonna, quanto odio la luce così che va a intermittenza. Vabbè, c'è il borsone. Sala operatoria. La donna coniglio. bambino coniglio. 5, 7. C'è un nuovo codice. Vabbè, non abbiamo nulla per il momento qua. Cos'è? Prendi. Premi. Uh! Ah! giustamente ha senso. Eccola qui, l'altra radiografia. Radiografia 2. L'altra energy drink. Oh! Chiavo ospedale radiografie. Oddio, però... Cos'è? perché? Perché? Perché stai sigillando la porta? Scusami. Perché? Perché non vuoi che entro? Addirittura non riesce... Cioè, riesce un manichino. Vabbè, riesce un manichino nella tua testa. Eh, sì. sono sempre più convinto di questa roba, ragazzi. E la porta è sparita. Non ho capito il codice. Cioè, non ho capito... Aspetta, intanto qui posso andare. No. 4, 6... 4, 6, 5, 7. 4, 6, 5, 7. Eh, non ho capito. La butto lì. O è 4, 7. Il triangolo, il 4 è sopra. Quindi la freccia mi indica sopra. Quindi 4. Qui c'è la punta. Quindi 4, 7, 6, 5. No. No. Come sempre. Siamo solitici. No, davvero. Non ho capito la logica. Sì, comunque io salverei per sé e per no. 8, 7. E non capisco il ragionamento, raga. Vi giuro. Addirittura sala... Sala autopsia. È qui che troveremo Laura, praticamente. Quindi forse George non ha accettato la morte di... Di Laura. Non lo so. Addirittura forse Anna incolpa George. Sono abbastanza sicuro che a questo punto ci sia un quarto simbolo. Perché tre simboli e sei numeri? Secondo me c'è un quarto simbolo che non ho visto. E secondo me il codice è tra questi quattro numeri. E adesso vorrei condividere con voi questo capolavoro. Mentre io cerco questo fantomatico quarto simbolo che pensavo... Semplicemente mentre giro a caso... Ok, tutto pensavo... Tranne che avrei potuto raccogliere un montacarichi. Per spostarlo. Daniele. Davvero. E vedete? Non è casuale ragazzi. Non è casuale per niente. Vedi? La bambola stava chiudendo questa stanza. Non è casuale. Infatti due e nove. Ok. Infatti dicevo manca il quarto simbolo. Quindi... Praticamente la bambola non vuole che... Scopriamo il corpo di... La leva è bloccata. Cioè forse il disegno. Devo seguire tipo la punta. Magari qui è il quattro. Però qua se guardi il disegno. Magari forse questa è qui una specie di punta. Perché questo è bello tondo. Questo meno. Quindi magari quattro, otto. Però mi pare molto forzato come ragionamento. Quattro, otto. E qui è due. Sì ma l'ordine. L'ordine di apparizione. Uh, accendiamo. Sette, tre, cinque, sei. Sette, tre, cinque. Cinque, sei. Studio. Usiamo la batteria. Le ultime due aggiungerei. Comunque, secondo me, loro serviranno. C'è la bambola, sicuramente. La porta è chiusa a chiave non più. Buon salve. Madonna che belle minne. Chi è la donna coniglio? Non lo so chi è la donna coniglio. E la bella salve da coniglio. E la bella salve da coniglio. Perché? Ci ha davvero colpito? No, appunto. Ovviamente no. È tutto un sogno. Cioè, è tutto pace. Lavoro simbolo, Daniel. Tempo di peste. Che comunque. L'operazione. Che cazzo mi serve sto studio, Daniel? Anzi, ecco. Quello mi serve. Energy drink. Chi è la donna coniglio? Questa è la chiave. Salo operatoria. Sì, sì. Sono sempre più convinto, raga. Cioè, stiamo vivendo. Bella, Madonna. Mettili tre simboli. Ecco, perfetto. Abbiamo appena capito. Madonna, che voglia, Daniel. Cos'è? E la Madonna, credo sia l'intestino. Quale, per esempio, un pene a punto? Era quattro. Quattro o sei. Giù. Non me lo ricordo. Qui era nove. No, ma li devo mettere in ordine. Era sette. Ok. Allora, sette. Nove. Addirittura. Allora, sette. No. Basta! Hai rotto il cazzo. Sette. Nove. Che sono più interessato alla trama. Aspetta. E' un rompere i coglioni. Sono venticinque di vita, mannaia. Quanto ci scommettete che, avendo finito gli anzioni, diciamo, ci schiatto perché sono arrivato qua a un poca vita. Su. Era cinque, sette. Vindicinque. Uno. Ok. E che cazzo ho fatto? Ah, la porta abbiamo aperto. Quindi abbiamo aperto questa porta. No, la porta è bloccata elettronicamente. Che cazzo abbiamo fatto? Uh! Mi ho rapido la sala. Ok, va bene, va bene, va bene. Giriamo, non giocito niente. Perfetto, va bene, metti via. Tiriamo la leva. Ti prego, non mi urlare. Ok. Possiamo esaminare? Si vede il numero 6. Ok, mettiamo l'ultima batteria. Dai, gioco. E qui ci sarà... Laura. Anna Chiendra è deceduta alle ore 15.03 di lunedì pomeriggio presso la sua abbinazione. Dopo il ritrovamento della sorella Laura morta, la signora Anna Chiendra ha esploso un corpo di arma da fuoco, puntandosi una pistola alla tempia. Ancora nessuna traccia di George Tellaself. Danny, il fratello delle due defunte e unico rimente alla famiglia e Chiendra ha dichiarato che fare tutto per trovare quel bastardo. Beh, queste note comunque. Io avrei messo un giornale, che cazzo ne so, così è un po' uno schifezzo. Però, ok, l'avevo capito che probabilmente erano morte. 11.994. Ok, il tutto ha molto più senso, comunque. Sì, ci troviamo nella mente di... Ok, eccola qui. Quindi una è Anna, l'altra è Laura. Non urlare, te ne prego. La Madonna è un po' tumore, non credi? Cioè, la Madonna. Cioè, un colpo di... E devo esaminare il cadavere. Che hai fatto, Anna? Perché? Ma con che cosa sei sparata? Scusa, un fucile a pompa. Che devo fare? Che hai fatto, Anna? Perché? Bandaggios. Che devo fare? Ho dovuto andare indietro. Mi devo prendere qualche jumpscare, sicuramente. Hai spaventato la porta? Devo scappare, immagino. Ti immagino debba scappare. No, non mi uccidere, ti prego. Ti prego, non mi uccidere. Tua madre. Che dove fa? Ok, sì, sono riaperte le porte. Ok, quindi posso tornare. Affanculo. Ok. Obitorio. Esamina. Come hai potuto? Come hai potuto farmi questo, George? Se n'è andato, semplicemente. Scusate se mi sono zittito, ma mi sono messo a leggere a mente perché sono molto preso in questo momento. Come hai potuto? Come hai potuto farmi questo, George? Non posso credere che tu l'abbia fatto davvero. Non riesco a spiegarmi come tu abbia potuto fare una cosa del genere. Eri il mio unico punto di riferimento oltre a Danny e sei svanito nel nulla, lasciandomi sola con un dolore immenso. Avevi un compito semplice e non sei riuscito a portarlo a termine. Probabilmente te ne sei reso conto ed è stata la vergogna a farti scappare. Non posso sopportare tutto questo di nuovo. C'è di nuovo un elefante in questa stanza. Addio George, addio Danny, Anna. O lui se n'è andato, semplicemente appunto è fuggito nelle sue, non so, tipo responsabilità. Non capisco. O E qui ci sono tutti... Madonna che... Sì, però non ho più le torce. Cadavere di Laura, dai medicina. Obiettivo completato. Non posso crederci. L'ho detto che sicuramente dobbiamo dare la medicina al corpo morto. Oddio, non mi ricordo se l'ho detto ma ammetto che l'ho pensato. Io giustamente proprio alla fine del gioco ho fio tutte le torce e ora ce ne andiamo, no? Esattamente al buio. Non vediamo un cazzo. Posso dire che finire le batterie alla fine del gioco non è stata proprio una grandissima idea. Facciamo che ricarica e faccio tutto un po' più veloce. Allora, ecco una cosa di cui ero curioso. Vediamo... Ah... Ecco cosa devo fare. Lo voglio vedere bene. Cadavere di Laura. Ah, vedi che è sempre stata Laura. L'abbiamo data alla medicina. Non posso crederci. Nel tab non abbiamo nulla. Ah, mannaia. Chiave e stanza segreta. Ma vai a cagare. Non l'avevo vista, raga. Ok, andiamo alla stanza segreta. Tutto c'è la donna coniglio. La donna coniglio che sembra la coscienza di... La mamma di George, la nonna. Che cazzo ne so. Allora, beviamo qua. Usa. Abbiamo ancora l'ultima batteria che me la tengo. Allora, io salve... Ok. Questa cosa magari, Dani, se riesci... Ricontrollo. Questa cosa che spariscono le pareti. Un po'... Si perde l'immersività, no? Perché io dico, ma che c'è? Ok. La stanza segreta che cos'è? Appunto, c'è la coscienza... Ok. Giustamente. Ha senso. George... George... Ok. George non ha retto. Te ne sei andato! In bocca al lupo per il lavoro. Giocava a nascondino, George. Non sei un po' troppo grande per questo gioco. Non si smette di giocare perché si invecchia. Si invecchia perché si smette di giocare. Hai ragione. Dai, vado a nascondermi, inizi a contare. George si mette a contare. Sei qui dentro? No! Allora sarei sicuramente in soggiorno. Oddio, da dove è salta fuori tutto questo alcol? Quando ha detto che non ce n'era in casa. Ok, George. Fingi di non averlo visto. Tana, sono libera! Dove ti nascondevi? Ero nel mobile del secondo bagno. Tocca di nuovo a te contare. Sono un po' stanca, George. Credo che andrò in camera mia a fare un riposino. Va bene, Laura. Tu che farai? Eh, si mette a bere. Non saprei. Non farmi sentire in colpa. Potresti andare in soggiorno a vederti un film. A prezzo che sia tutto coerente comunque. Ah, ha, ha. Non ci vuole nulla a creare qualcosa di coerente. Non ci vuole nulla a creare qualcosa di stracoerente. giustamente Anna torna e trova il cadavere di lei. E quelli siamo noi, praticamente. Wow! Quando troverai questa lettera, io non ci sarò più. I miei problemi con l'alcol non sono mai spariti. Ho cercato di essere una persona migliore per te, ma non ci sono mai riuscito. Questa lettera è l'unico modo che ho per affrontare la verità. Non riuscirei nemmeno a guardarti negli occhi per dirtelo. Il giorno in cui sei andata via, ho ceduto. Mi sono versato un drink in soggiorno, poi un altro, e un altro ancora. Mi faccio schifo. Nei fumi dell'alcol mi sono addormentato. Laura ha provato a chiamarmi, ma non ero in me. Non le ho fatto la puntura. Alle 23 dormivo. Il mattino seguente ho trovato Laura morta in camera sua. Non posso affrontare anche questa verità. Addio Anna, George. Sì, praticamente, credo, abbiamo vissuto, diciamo, per farvi capire, tipo, forse, ecco, gli ultimi istanti all'interno della testa di George prima di morire, fino a lui vedersi. Cioè, è come se la sua anima vedesse il suo corpo in fin di vita, o comunque che sta esalando, no? L'ultimo respiro. Bellissimo. Cioè, semplice, per carità, banale, ma banale non nel senso brutto nel termine. Bello, coerente, figo. Sembrerebbe essere il mio corpo. Cosa sta succedendo ora? Devi affrontare Anna, tipo. E mo' dobbiamo andare in camera. L'unica cosa, ammetto, è che i modelli non mi fanno impazzire. Cioè, sembra quasi di pietra, no? In speciale, sembrano un manichino. Si è aperta la porta d'uscita. E giustamente, mo' ce ne possiamo andare, no? Non abbiamo più nulla da fare. Esplorerei quasi la casa, però. I quattro demoni? I quattro demoni. Caro George, ben fatto. Ora sei in grado di ricordare ciò che hai fatto. La tua dipendenza dall'alcol non è mai finita. E la tua puerilità ti ha condotto nel baratro del peccato. Ma non abbiamo ancora finito con te. Il tuo viaggio è appena iniziato. E dovrai fare ancora tanta strada per compiacerci. Queste parole potrebbero suonare incomprensibili per te. Presto capirai. Torneremo a prenderti. George, il tuo percorso deve continuare. Varcando alla porta sei libero. Non sarai più in grado di tornare in questa casa. Offriamo la pizzo. La chiave è... Ti prego. Fatemi speculare. No, non penso sia una cosa di lore, di trama. Quattro demoni. Che sarebbero questi quattro demoni? George, a sto punto, allora non credo morirà. Ha fatto altri due giochi, appunto, Daniele. Cosa ci vuoi? Ma secondo me... Penso sia una roba esterna al gioco. Una cosa di Daniele, secondo me, no? Cioè, questa è proprio una chicca, magari, perché banalmente sei libero. Magari una pistola per ammazzarci e morire davvero. E quindi un universo dove non ci sarebbero gli altri due giochi. No, una chiave. Camera dei trofei. Dove cazzo è sta camera dei trofei? Penso sia una camera dove, appunto, penso ci siano, tipo, tutti quelli che l'hanno supportato, che gli hanno supportato il progetto. Dove cazzo è la camera dei trofei? E vi risparmio esattamente 15 minuti di me che vado in giro per tutta la casa. Ovviamente non trovando questa cazzo di camera. E allora mando un audio a Daniele. Mannaggia a te, Daniele. E dopo circa mezz'ora che giravo per casa, ho scritto a Daniele. Daniele, ma hai in casa sta cazzo di camera qua? La camera dei trofei? E mi fa... No, devi prima uscire. Ma come, Daniele? Ma come? Vi dico la verità. Ho dato per scontato che fosse spawnata in casa. Comunque, raga, dobbiamo uscire. Dai. Siamo liberi. Ah, proprio oscuro. Giusto. Ah, siamo oscure e senza luce. Ah, ok. Quindi adesso ci sarà una porta con scritto che camera dei trofei, va bene. Signore, abbiamo finito. Porca troia. Queste sono le cose belle che mi piacciono. Il tutto ha senso. Mi è piaciuto. In tutto ciò comunque, vi ricordate il corpo di Anna? La madonna. Dedico questo gioco a tutti i sognatori e alle persone determinate. Beta Tester. Gianmarco Giulio, Giuseppe Lorenzo, Natascia. Questa immagino sia la chiave. Esatto. Camera Laura. Camera trofei. Ok. Oh. Oh. Ok. Ok, tutto vuoto. Giorgio, per ora è finito. Cosa ti aspetti? L'incubo è giunto al termine. Devi tornare alla tua vita di tutti i giorni. Rissaccati da questo gioco. Apri il menu ed esci. Adesso non otterrai altro da noi. Abbiamo promesso e torneremo a prenderti. Sei libero? I quattro demoni. Qui c'è la camera. Normalissima. Vuota. Non c'è nulla. Va bene. Oh, veramente, si può anche salvare. Vai, io salvo. Bam. Camera dei trofei. Oh. No. Non lo rendo più semplice. Non lo rendo capibile. Non mi interessa. Capirai dopo perché. Questa roba qui della chiave della camera dei trofei è un easter egg. Non è una roba che serve nel gioco, non è una roba che serve capire. Voglio che, cioè io voglio proprio che impazzisca il giocatore se sta attento a questa cosa. Tu calcola che nove giocatori su dieci mangiano la pizza e non leggono neanche il libro sul tavolo che ti dice tieni la pizza fino alla fine. Quindi chi lo fa mi piace che impazzisca cercando la cosa e poi alla fine si arrenda, esca dalla camera, esca dal gioco e arriva alla stanza finale che adesso vedrai e gli dice Ah, cazzo, ecco dove serviva la chiave. O potrebbe essere anche un modo per spingere una persona a rigiocarci. Perché quando arriverai, troverai questa porta della camera dei trofei, dici, cazzo, ma dove si prendeva sta chiave? Vedrai poi cosa c'è all'interno. Deve arrivare fino al fondo per capirla. Mamma, camera dei trofei. Shizuko Umi. C'è Victor Lasso, Favij, Pio, c'è Pio, ok. No, ci voglio essere pure io qua dentro. Allora! No, vabbè. Tutti i vari font. Non c'è. Ah, Studio of Logos 3. Studio of Logos 2, immagino. Studio of Logos 1. Giustamente perché io le cose le faccio al contrario. Holden New. Oh! Old Posters 2. Ah, i poster vecchi che immagino c'erano all'interno della casa, dici appesi, Old Posters. E questa è Laura's Old Sketch. Sì, questa cosa la vedi e nei precedenti caricamenti c'era questa immagine, ok. No, ma sono curioso, voglio vedere. Ai Koopa Noodles. Non so chi sia. Ah, Asma TV. Ai Sunny West, ok. Kodomo. Ah, lui è il gatto sul tubo. Ma ho detto, se no, non è gente che ha giocato il gioco. O che l'ha finito. Ma sai che è molto probabile? Non è necessario. Ah, che belli. Ah. Jimmy De Fiat. Ah, Jimmy. Yakamet. Oh, è your mother, qua. Giuseppe Doesn't Matter. Che è il fratello. Ok, non so chi sia. Breakfast. Mr. Raccoon. Sky 96. Madonna, ma è lunghissimo. Ah, lì in fondo Daniele. No, beh, col cuore in mano, raga, io credo che qua vi taglierò, perché veramente c'è dieci minuti di me che guardo quadri di gente che minimamente non conosco. Mi pare anche un po' tumaci, vi devo dire. Bologna. Monkey. E poi qua in fondo Daniele Doesn't Matter. Complimenti, hai trovato la camera dei trofei. Come vedi in questa stanza ci sono le foto di persone che, come te, hanno trovato la camera dei trofei. Vuoi far parte anche tu del gioco? Mandami un messaggio privato su Instagram con il link del tuo gameplay di Lo Stallone caricato su YouTube e il link della live in cui hai streamato questo gioco. La tua foto verrà inserita insieme agli altri e fare parte di tutti e tre i capitoli di Lo Stallone. Grazie per aver giocato Daniele Doesn't Matter. Bellissimo. Bellissimo. Oh, dai, so contento che comunque... Cioè, questa è tutta gente che la pizza se l'è tenuta, eh. Signori, che dire? Bellissimo. Mi è piaciuto tanto. E pure Pio... Pure Favij ci ha giocato a questo gioco. Bellissimo. Signori, che altro dire? Io spero tantissimo che questa serie vi sia piaciuta. Se volete vedere il 2 e il 3, ditemelo qui sotto con un commentino. Ammetto che mi è piaciuto davvero tanto questo viaggio coerente, sensato, bravo Daniele. Davvero bravo, bravo, bravo. Io spero tantissimo che il video di oggi vi sia piaciuto, soprattutto che la serie nella sua competenza l'abbiate apprezzata e nulla. Noi come sempre ci vedremo ad un prossimo video, ad una prossima serie. E ciao, ciao. Aspè, PS, aspè, no, no, no. Usciamo e rientriamo nel gioco per gli achievement. Abbiamo caricato, entriamo in gioco ed eccoli qua ragazzi. Troppo tardi, vista la GX, offerte demoniache. Sei libero e Mission Impossible. Ora vediamo, me ne dà altri? No. Ed eccoli qua, sono praticamente tutti gli ultimi. Ovvero abbiamo messo al posto tutte le radiografie, abbiamo dato la medicina a Laura, abbiamo finito lo Stallone Sorellina, abbiamo offerto la pizza ai quattro demoni, abbiamo trovato la camera dei trofei e ci sono ancora altri tre achievement. Più uno nascosto che non so quale sia. Signori, voglio fare la run dove prendiamo pure questi tre achievement. Quindi dobbiamo rigiocare interamente lo Stallone. Non li ho raccolti tutti? Come non li ho raccolti tutti? Tutti questi achievement li prenderemo con una live. Voglio fare una live dove platineremo il gioco, dove prenderemo tutti gli achievement in sostanza. Quindi signori, che dire, una live dedicata proprio a prendere tutti questi achievement perché voglio platinarlo il gioco di Daniele. Signori, grazie ancora per essere arrivati fin qui. Vi voglio bene. E ciao, ciao. Il video è finito Iscriviti al canale E se te lì sei persi Guarda questi video qua Yeah E basta tutto qua Se poi hai visto anche questi due video Ci vedremo domani con un prossimo Forse E... E... E...